Siamo qua con Andrea Catania, capitano del Corligliano, Alessio Mirabelli, autore del gol vittoria contro il Begato. Un commento dalla partita. Una vittoria importante, pesantissima, meritata sotto il profilo dei caratteri. Vitevamo vincere, potevamo pareggiare, poteva succedere qualsiasi cosa, ma su un campo così difficile abbiamo dimostrato di esserci. Già le più ultime tre eravamo in vantaggio, non abbiamo vinto oggi, ci siamo presi quello che meritavamo e siamo felici. È stata una bella partita, ci siamo riscattati dopo le ultime prestazioni. Quindi abbiamo dita la vittoria ma per sfortuna e disattenzione nostra è sfuggita. È stata una bella partita, maschia ma corretta, con il Begato ma finalmente non si è più. Grazie.